La costa di Barcellona ha mantenuto il record negativo del tratto di mare più lungo di inquinato della provincia, escludendo Messina. Restano infatti sempre due i tratti che non risultano balneabili per inquinamento. Si riferiscono ad una distanza di 800 metri, Villa Crisfuli, scarico troppo pieno a 400 metri ad ovest e da 400 metri ad est della foce del torrente Termini. Il decreto regionale dell'assessorato alla salute del 19 marzo scorso relativo alla stagione Balneare 2019 ha confermato per buona parte i dati del 2018. Solo Messina supera la costa del Longano, l'inquinamento riferito ai 6.400 metri dalla foce del torrente L'Alveria a quella del torrente Portalegne e si allunga di 630 metri dall'ospedale Regina Margherita a 100 metri a nord della foce del torrente Annunziata e di altri 200 metri nell'agolo piccolo di Torrefaro. Confermate altre zone dell'area tirrenica. Torrente Boncoddo per 200 metri tra Rometta e Spadafora, poi per 100 metri dalla foce del torrente Senia di Venetico, alla foce del torrente Fondachello di Valdina per 250 metri, a Torregrotta per 300 metri dalla foce del torrente Fondachello. Dopo Barcellona c'è la costa dei Nebro di 200 metri a Sant'Agada Militello, nel Vallone Callamelata e a Santo Stefano di Camastra 400 metri dalla foce del torrente Ceramisello. Nel barcellonese sono interessati dai missioni perché ci sono sbocchi di canali, fiumi, torrenti e depuratori, 100 metri a Barcellona, torrente Mela, 200 metri a Termevillatore, torrente Termini, a Falcone 100 metri, torrente Licona e a Oliveri 100 metri, zona depuratore. Sono invece adibite alla balneazione a Barcellona le foci dei torrenti Idria e Longano, due centro metra d'est, scarico Villa Crisafulli e Contrada Cantoni.